L'obiettivo è sicuramente quello di contrastare lo sviluppo di una patologia che è gravissima, è sempre più diffusa, sempre più trasversale, che purtroppo distrugge sempre più famiglie, distrugge un sistema economico e la socialità. Da adesso la Toscana ha norme più stringenti per combattere il gioco d'azzardo. Con la nuova legge agli istituti scolastici, luoghi di culto, centri sportivi e ricreativi e strutture sanitarie si aggiungono come luoghi sensibili nelle cui vicinanze non sarà possibile giocare d'azzardo le scuole per l'infanzia, i banco, matte e compro oro. Con questo aggiornamento che ieri il Consiglio regionale ha approvato con 28 voti favorevoli e 5 astenuti, praticamente introduciamo l'obbligo di formazione obbligatoria, quindi per gli esercenti e per il personale che opera nei centri di scommesso o comunque nei punti di raccolta gioco. Altre modifiche importanti riguardano proprio la definizione di centro di scommesse che questa volta non riguarda soltanto i punti dedicati in via esclusiva, ma anche in via non esclusiva, ovvero anche tutte quelle attività che hanno delle licenze miste. Un'altra importante modifica riguarda anche la definizione di nuova installazione. Dal momento in cui la legge regionale, la modifica, verrà approvata sul Burt, praticamente per nuova installazione si intenderanno anche i cambi di contratto, per cui nel momento in cui si cambierà contratto, anche quelle attività che attualmente si trovano nel raggio di 500 metri dai luoghi sensibili che in questo momento hanno il diritto chiaramente di rimanere perché la legge non è retroattiva, nel momento di cambio di contratto si considerano nuove installazioni per cui a quel punto la licenza non è più valida.